Senti? Si sente? A chi c'è, ti conti? Ma dove ha finito questo video? A chi c'è? Sarà al virale? Peccato che si sente dolore, capito? Peccato! Un cuore ha neanche un patto a palle con l'odore! Eh, si vuole un dolore! Non so che domani! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!